Vorrei condividere questa sera, in questa settimana che ci avvicina a una simbologia di grande importanza come quella della Pasqua, vorrei condividere alcune riflessioni sulla pace e soprattutto sul significato che questa può avere non soltanto a livello sociale ma anche a livello individuale. La simbologia della Pasqua è una simbologia molto forte, dal punto di vista teosofico noi abbiamo una metodologia che rappresenta uno degli scopi più importanti del lavoro della società teosofica che è proprio quello dello studio comparato delle religioni, della filosofia e delle scienze. L'analisi comparata ci permette sempre di cogliere in profondità quello che è il significato naturalmente che è rappresentato anche dalla simbologia delle varie religioni. Questa sera, la serata del Giovedì Santo, l'Evangelista considerato esotericamente il più interessante che Giovanni ci parla per esempio della lavanda dei piedi e naturalmente qualche commentatore storicamente ha definito questo passaggio come il passaggio in cui Gesù diventa servus servorum dei. Quindi il significato è molto profondo, cioè qualcuno che ha tutta la forza, tutta l'autorità, tutto il potere per imporsi in qualche modo agli altri fa invece un gesto di grande rispetto, di grande considerazione verso gli altri e ne diventa quasi servo. È una simbologia molto importante che ci porta anche a fare un'altra considerazione. Noi a volte, specie se siamo cresciuti in un ambiente in cui la religione si è un po' imposta per quanto riguarda i nostri comportamenti per motivi familiari, scolastici, diciamo sociali o così via, tendiamo poi a rimuovere queste incrostazioni e credo che questo vada anche bene. Ma ad un certo punto della nostra vita dobbiamo riprendere queste simbologie, studiarle a fondo, capire che cosa significa il Giovedì Santo, che cosa significa il Venerdì Santo, che cosa significa la crocefissione, che cosa significa in ultima analisi la resurrezione, perché poi alla fine molte volte il cristianesimo viene dipinto come una religione in qualche modo molto dura, molto così e quasi che tutto si fermasse il giorno del Venerdì Santo. In realtà non è così perché in realtà il cristianesimo è o potrebbe essere una religione della gioia ed in effetti il significato della resurrezione è un significato molto profondo. Tra l'altro la lettura comparata degli stessi Vangeli canonici ci permette di vedere molti comportamenti da parte dei discepoli, da parte degli apostoli, da parte delle persone della politica, da parte del popolo che naturalmente il giorno delle palme osanna Gesù che entra a Gerusalemme, salvo poi dopo pochi giorni non fare assolutamente nulla per salvarlo da quella che di fatto era la pena capitale. Quindi in tutto questo noi che cosa riconosciamo? Riconosciamo naturalmente l'umanità, riconosciamo noi stessi, la persona che era più vicina a Gesù che era Pietro e naturalmente lo rinnega, lo rinnega tre volte. Allora tutto questo ci permette di capire qual è la condizione umana, ma naturalmente la lettura di questi testi ci permette anche di fare un'altra considerazione. Annie Besant che ha scritto il libro Il Cristianesimo Esoterico sosteneva questa tesi che naturalmente queste vicende possono essere lette e viste letteralmente come descrizione diciamo normale, ma ovviamente dietro questi testi del Cristianesimo si c'era una conoscenza più profonda e quindi la tesi di Annie Besant era che ovviamente ci fosse dietro a tutto questo anche un profondo insegnamento iniziatico e credo che questo effettivamente possa essere. Per cui le considerazioni ripeto sono due, affrontare tutti i testi di tutte le religioni con grande rispetto, con grande attenzione, sviluppando naturalmente i livelli quanto più possibili elevati di conoscenza e ovviamente guardando, studiando, leggendo, meditando questi testi per coglierne anche quelli che sono i significati per così dire esoterici. Nello stesso tempo considerare che un approccio sistemico e un'analisi comparata della conoscenza è uno strumento che noi abbiamo a disposizione per capire meglio e per capire e per capire di più. È importante tutto questo? Credo di sì. Noi non possiamo come persone che stanno cercando diciamo attraverso la propria ricerca individuale e di ampliare la dimensione della propria conoscenza interiore e spirituale non possiamo non osservare come in questo momento per esempio l'approccio ideologico e separatista è sicuramente trionfante. Lo vediamo anche nel linguaggio per esempio. è sempre più raro è ascoltare il noi inclusivo nei ragionamenti, c'è sempre un voi disgiuntivo, c'è sempre un senso di separazione. Chiaramente il senso di separazione come dire apre alla dimensione della lotta, apre alla dimensione del dualismo, apre anche alla dimensione del consumismo perché ovviamente il consumatore deve sempre desiderare qualche cosa che non ha, deve sentire sempre qualche cosa diverso da quello che è per andarci incontro e naturalmente io credo che questo debba indurci a qualche riflessione. Così come deve indurci a qualche riflessione il fatto che la paura molte volte sia la dominante e quindi sia in qualche modo la cosa che alimenta le nostre emozioni e la paura ci rende molto insicuri, la paura ci apre diciamo anche ad una dimensione dell'egoismo, ad una identificazione più forte perché naturalmente non c'è sicurezza. Assistiamo credo anche a spettacoli veramente da bar sport, io li chiamo, penso ai media, penso ai social, penso ovviamente anche alle tante trasmissioni televisive, la colpa è sempre degli altri e io credo che una domanda fondamentale in questo periodo di tempo bisogna farsela, siamo in grado di assumerci delle responsabilità oppure la colpa è sempre degli altri? Cioè siamo così convinti che non possiamo fare niente per migliorare le cose perché se così fosse voglio dire ogni ragionamento sicuramente diventerebbe sterile. C'è un libretto che non è stato pubblicato da molto tempo diciamo in italiano, si tratta di fondamenti di filosofia esoterica dagli scritti di Elena Petrovna Blavatsky, l'ha scritta una signora inglese, Yante Hoskins, che era nata a Firenze, era nata in Italia, poi aveva dovuto per effetto diciamo della guerra muoversi dall'Italia e raggiungere l'Inghilterra, è stata una profonda studiosa di Elena Petrovna Blavatsky e della dottrina segreta e in un passaggio di questo libro fissa quattro idee basilari che vorrei condividere con voi stasera. La prima idea basilare è quella della fondamentale unità di tutta l'esistenza. Questo è il principio cardine del pensiero teosofico, che è il concetto di unità della vita. Cioè la vita viene vista come un unicum e la vita naturalmente non solo viene vista come un unicum, ma la vita viene vista come qualche cosa che è vivo, che è vitale, che è unito e la vita viene vista naturalmente nella sua unità, nella sua interezza e quindi il rapporto dualistico fra lo spirito e la materia, voglio dire, viene superato in questa visione unitaria perché dal punto di vista della teosofia ogni livello di aggregazione della materia ha comunque una presenza, una composizione diciamo, anche di tipo spirituale. quindi lo spirito è omnipervadente, la materia è assolutamente intelligente e naturalmente questo apre alla dimensione dell'evoluzione. Dal punto di vista degli scritti di Madame Blavatsky non esiste, quindi non esiste una materia morta, ma esiste la vita nella sua unità. Dal punto di vista sempre degli scritti di Madame Blavatsky non esiste una separazione manichea tra lo spirito e la materia, ma esiste la vita una e una materia intelligente in grado di evolvere in modo discontinuo, ma comunque attraverso un ritmo, un respiro universale che fa sì che i mondi possano crearsi e poi distruggersi, ma poi ricrearsi e comunque diciamo con una evoluzione che ha alla sua base l'intelligenza, un'intelligenza che è omnipervadente. Per cui anche il concetto di macrocosmo e microcosmo viene visto, come dire, in questo modo, e cioè che anche a livello del microcosmo sono presenti tutti gli elementi del macrocosmo. Quindi la vita in questa unità ha un passaggio che diventa anche un passaggio etico, un passaggio morale, perché naturalmente se la vita è una, se tutti i regni sono pervasi dall'intelligenza della vita stessa e si muovono lungo linee evolutive, l'essere umano deve portare un grande rispetto anche a quelli che noi percepiamo primariamente, diciamo con i nostri sensi, penso al regno minerale, penso al regno vegetale, penso al regno animale, oltre che al regno umano. Quindi l'essere umano, come dire, riconoscendosi come microcosmo che contiene tutti gli elementi del macrocosmo, riconoscendo l'intelligenza della vita in ogni suo aspetto, ovviamente è portato a un profondo rispetto, a un profondo amore nei confronti della vita stessa. Allora uno potrebbe chiedersi, ma il karma in questo disegno allora che cosa rappresenta? Rappresenta non una legge punitiva, ma rappresenta una legge evolutiva, rappresenta una legge di equilibrio, è un sistema complesso, naturalmente non è un sistema lineare e questo è chiaro che fa sì che l'essere umano abbia naturalmente una visione del mondo, una possibilità di comprensione che non è sicuramente di poco conto, ma è una visione del mondo che richiede un impegno, che richiede un impegno forte, richiede un impegno forte, che è quello dell'attenzione, dell'osservazione filosofica, senza la quale naturalmente ciascuno di noi avrebbe grandi difficoltà a muoversi, anche nel campo della conoscenza. Dal punto di vista della teosofia potremmo dire questo, che la luce è di tutti e la luce è per tutti. E allora si apre una dimensione che io definirei anche tantrica rispetto a quei principi sintetizzati così bene dagli ante Hoskins nel suo libretto che ho appena citato. E vorrei condividere con voi alcune riflessioni su questi aspetti. Il primo aspetto riguarda il concetto di testimonianza, cioè gli esseri umani dovrebbero essere dei testimoni, dovrebbero essere dei testimoni nel loro vivere, e quindi potremmo coniare uno slogan, dal pettegolezzo alla testimonianza. Gli esseri umani quando si trovano tra di loro e anche a livello mentale molte volte fanno del pettegolezzo, non testimoniano, voglio dire, la vita, i suoi valori, le loro conquiste, ma fanno del pettegolezzo. Quindi il primo aspetto tantrico è dal pettegolezzo alla testimonianza. Un secondo aspetto riguarda invece la capacità che l'essere umano ha di avere degli slanci. Gli slanci naturalmente sono qualche cosa che ci coinvolge, che ci coinvolge pienamente, e quindi lo slogan potrebbe essere dal calcolo egoistico allo slancio altruistico. E naturalmente l'essere umano è anche capace di sognare però, ha una grande capacità di sogno. Allora il passaggio potrebbe essere quello dall'immaginazione, proiettata sempre, come dire, nel futuro, per avere qualche cosa di più, magari sul piano dell'avere, ad una dimensione invece di sogno, che viva però sul piano dell'essere. Perché vedete, un aspetto degli esseri umani è questo, come dicono gli antropologi, il temperamento è qualche cosa, diciamo, che la vita ti dà. Il carattere è come tu reagisci molte volte a quelle che sono le tue esperienze. Allora, quello che dovremmo e potremmo fare è quello di capire qual è il nostro temperamento, perché comprendere il nostro temperamento ci permette di capire quali sono le nostre attitudini, ci permette di capire meglio quello che siamo. È chiaro che questa cosa va capita. e il carattere, in qualche modo, sul carattere sì che si può lavorare. Si può lavorare perché è la reazione che noi abbiamo alle nostre esperienze, quindi il carattere lo possiamo sicuramente migliorare, ma quello che dobbiamo fare per migliorare il carattere è proprio il fatto di capire qual è il nostro temperamento. Torno, come ho sempre fatto in queste serate, sul pensiero dualistico. A me pare che questo in particolare sia un periodo in cui è il ring, in sostanza, il simbolo, non solo perché una guerra, diciamo, ci porta a impossessarci, diciamo, di questa immagine drammatica del ring, e badate bene, non sto pensando soltanto alla guerra in Ucraina, penso alle tante guerre che ci sono in giro per il mondo, penso per esempio ad un paese che io amo tantissimo e in cui ho amici, che è la Birmania, che sta vivendo una repressione terribile e naturalmente, come dire, non se ne occupa nessuno di questo paese, non leggo tracce, se non assai raramente, sui giornali. Quindi ci sono tante guerre, ma queste guerre sono anche la proiezione dei tanti ring, voglio dire che ci sono a livello più ristretto e via via, persino dentro di noi, c'è una continua lotta tra pugili, tra belligeranti, ebbene, io credo che ci sia un passaggio da fare, e il passaggio da fare è quello di passare dal ring allo spazio sacro, cioè, che cosa intendo per lo spazio sacro? non soltanto, diciamo, lo spazio canonico, ma lo spazio sacro è quello che rendiamo noi sacro, diciamo, nelle nostre relazioni, anche la nostra vita di famiglia dovrebbe passare dal ring allo spazio sacro, anche la nostra vita di lavoro dovrebbe passare dal ring allo spazio sacro, e naturalmente anche la nostra attività di ricerca, non è che dobbiamo, fra ricercatori, metterci a guerreggiare perché il mio guru è migliore del tuo, o perché la mia idea è migliore della tua, questo è assolutamente ridicolo, ma i ricercatori dovrebbero essere in grado di trasformare la loro ricerca, il loro dialogo in uno spazio sacro, quindi lo slogan potrebbe essere dal ring allo spazio sacro, è chiaro che poi un concetto molto presente nella cultura buddista che va sicuramente recuperato è quello della compassione, e naturalmente che non ha il significato del compatire nel linguaggio comune nostro, ma è un atteggiamento che riconosce profondamente l'unità della vita, riconosce profondamente la potenziale fratellanza fra tutti gli esseri e naturalmente la compassione è quella che trasforma di fatto diciamo l'essere umano e questo concetto non è presente solo ovviamente nella tradizione buddista, penso al mito della caverna di Platone e lo trovo molto molto calzante, molto presente, quindi è agire a beneficio di tutti gli esseri e quindi la compassione va insieme con la dimensione del servizio, vedete perché è importante quest'ottica, questa dimensione del servizio, perché terziarizza la nostra attenzione, decentra meglio questo termine esatto, la nostra attenzione, quindi la porta diciamo fuori da noi e fuori dalle nostre identificazioni e questo è un passaggio sicuramente estremamente importante, che ha delle conseguenze, per esempio quello di superare la dimensione curriculare della relazione, noi quando incontriamo gli altri esseri umani siamo tremendamente interessati al loro curriculum, che cosa fanno, qual è la loro posizione in qualche paese di cultura calvinista, quant'è il tuo reddito, perché ti misuro diciamo anche questo, ma sono tutti elementi curriculari, io credo invece che questo aspetto nella relazione vada superato, vada superato dove, come, va superato nella dimensione dell'essere e quindi ovviamente c'è un passaggio da fare, che è il passaggio dall'avere diciamo alla dimensione dell'essere. in un'altra serata abbiamo parlato di questo concetto di antacarana, perché dal punto di vista diciamo teosofico questo è un concetto molto importante, perché la teosofia vede nell'essere umano un insieme come dire di livelli possiamo definirli più grossolani, ma non per giudicarli negativamente, ma perché semplicemente perché sono più facilmente percepibili, abbiamo una dimensione fisica, abbiamo un principio vitale naturalmente, abbiamo un vero e proprio corpo emotivo, abbiamo le emozioni sono importantissime e le emozioni incardinano la memoria, magari possiamo dimenticare un libro che abbiamo studiato all'università, ma se un professore ci ha scardinato emotivamente offendendoci una volta mandandoci via un esame, magari non ricorderemo sicuramente il libro che poi abbiamo studiato, ma ci ricorderemo di questo episodio, quindi corpo fisico, corpo emotivo, quindi definiamolo astrale, naturalmente la dimensione del mentale, sappiamo che la mente ha una dimensione concreta, è fatta anche di numero, di calcolo, di misura ed ovviamente la mente con le sue registrazioni è sempre lì in qualche modo come la lingua che batte anche dove il dente duole, ma l'essere umano non è solo questo, è fatto anche di concetti alti, di concetti astratti, di una dimensione diciamo capace di relazionarsi con gli archetipi e quindi di fatto il grande passaggio di tipo spirituale è definito diciamo antakarana è proprio quello di passare dalla diciamo dalla percezione del reale attraverso solo i corpi grossolani ad una dimensione invece che ci permetta di relazionarci con il mentale superiore e con l'aspetto intuitivo. questa è una possibilità naturalmente che l'essere umano ha. I buddhisti suggeriscono al ricercatore diciamo ricordiamo bene che il buddismo non è una religione il buddismo è una filosofia è una filosofia che studia il funzionamento della mente allora c'è questo concetto dei fuochi sacri che dal punto di vista di questa cultura vengono ritenuti piuttosto importanti per arrivare ad avere una percezione della realtà che possa aprirsi diciamo all'intuizione questi quattro elementi sono la compassione di cui abbiamo abbiamo accennato diciamo è la simpatia l'amore e la neutralità la neutralità è un aspetto molto importante perché la neutralità è quella qualità che galvanizza il potenziale dell'osservazione perché se noi quando osserviamo qualche cosa reagiamo diciamo automaticamente a quello che percepiamo ovviamente dal punto di vista pratico qualche volta è molto bene che avvenga questo ma voglio dire dal punto di vista filosofico ovviamente è molto importante che noi osserviamo la realtà con neutralità quindi senza giudicarla cercandone invece il significato profondo cercandone le connessioni karmiche questo è molto importante perché quando noi ci accorgeremo osservando gli altri che gli altri hanno esattamente gli stessi problemi che abbiamo noi perché naturalmente reagiscono attraverso gli stessi meccanismi potremmo meglio aprirci anche alla dimensione della comprensione dell'altro e anche alla dimensione ovviamente della compassione dell'altro anche la simpatia è molto importante perché noi siamo degli esseri molto influenzabili sotto tutti i punti di vista siamo influenzabili e quindi è chiaro che se noi nutriamo simpatia nei confronti degli altri gli altri percepiscono diciamo questa simpatia ma naturalmente ne hanno anche un beneficio nel loro comportamento nella loro dimensione dell'essere nella loro dimensione del fare quindi che gli esseri umani voglio dire possano nutrire simpatia reciproca è un aspetto davvero di grande importanza quindi questi quattro fuochi puri la compassione la simpatia l'amore diciamo e la neutralità l'amore è una parola difficile perché come dire necessita di molta disambiguazione nel senso di dire è un termine che finisce per essere ambivo nella nella nostra percezione quindi naturalmente qui stiamo parlando come dire di un amore se vogliamo con la maiuscola cioè un amore che non è possesso ma un amore che invece che parte dall'amorevole gentilezza e che può naturalmente rivolgersi all'altro da noi sia che sia vicino a noi ma anche naturalmente l'amorevole gentilezza si sviluppa anche in cerchi concentrici sempre più ampi e può abbracciare ovviamente anche tutta l'umanità ci sono anche delle riscoperte io credo delle riscoperte da fare delle riscoperte piuttosto importanti una riguarda il fatto di riscoprire il poeta che è in noi cioè ogni essere umano ha un poeta dentro di sé è un poeta ha una sfumatura poetica e io credo che sia molto importante riscoprire questa dimensione questa questa struttura una volta si dava al ricercatore spirituale un suggerimento che era quello di tenere diciamo un diario tra virgolette ma non tanto per creare diciamo così una conoscenza di tipo storico quanto piuttosto per esternalizzare voglio dire il proprio sentire il proprio vedere il proprio il proprio fare e attraverso l'osservazione di questa esternalizzazione ovviamente il ricercatore può trarre un grande beneficio ma il tema è proprio quello di riscoprire diciamo le corde sottili di riscoprire il poeta che è in noi la nostra capacità di ascoltare di ascoltare la musica la nostra capacità di osservare gli altri la nostra capacità di non giudicare gli altri la nostra capacità di vedere la natura di ricreare un patto profondo con la natura guardate che il fatto di ricreare un patto profondo con la natura porta una vera rivoluzione individuale sociale economica ambientale senza un rispetto nei confronti degli altri senza una possibilità di amorevolezza nei confronti della natura noi non riusciremo a ricreare diciamo questo insieme questa armonia che è un aspetto essenziale nell'evoluzione diciamo dell'umanità quindi dobbiamo riscoprire diciamo il poeta che è in noi perché il poeta è in grado di vedere la sacralità diciamo della vita è in grado di vedere la sacralità della natura ed è in grado veramente di portarci a fare qualche cosa di buono perché naturalmente dobbiamo anche riscoprire l'artigiano che è in noi oltre che il poeta dentro di noi c'è anche un artigiano e quindi diciamo questo aspetto dell'essere umano capace di fare noi lo dobbiamo riscoprire il nostro artigianato deve essere un artigianato ad opera d'arte noi siamo sempre lì che vorremmo essere siamo tutti componenti della grande orchestra della vita ma molto molte volte perdiamo un sacco di tempo perché vorremmo suonare qualche strumento diverso vorremmo essere da qualche altra parte dell'orchestra il fatto di riscoprire l'artigiano che è in noi credo che abbia un grande significato perché invece dovrebbe permetterci di accettare diciamo la nostra situazione e di cambiarla partendo da lì attraverso l'impeccabilità del comportamento attraverso il fatto di essere un artigiano che fa delle cose ad opera d'arte lì dov'è com'è e nel qui ed ora ed è da lì che si parte diciamo per fare una vera trasformazione perché in fondo noi se è vero che in parte siamo adesso quello che abbiamo fatto con ciò che eravamo è anche altrettanto vero che noi saremo quello che stiamo facendo con quello che siamo e quindi questo aspetto dovrebbe portarci ad essere a produrre un artigianato assolutamente ad opera d'arte gli esoteristi fanno sempre riferimento ad un bambino cioè secondo molti esoteristi ogni essere umano ad ogni essere umano è stato donato e naturalmente è una simbologia ma è una simbologia piuttosto interessante calzante è stato affidato un bambino e quindi in qualche modo noi siamo responsabili del bambino che la vita ci ha affidato allora dovremmo naturalmente domandarci ma stiamo trattando bene questo bambino stiamo facendo tutto quello che abbiamo la possibilità di fare vedete l'essere umano a volte cerca dei poteri vorrebbe come dire essere capace di chiaro vigenza di chiara udienza avere dei poteri di guarigione e così via e badate bene che queste sono delle possibilità che sono nelle corde diciamo dell'essere umano ma è anche altrettanto vero che la nostra evoluzione è un'evoluzione spirituale quindi voglio dire i nostri poteri non sono acquisibili diciamo egoisticamente perché fanno comodo a noi magari per mettere in vendita diciamo queste acquisizioni tutto questo è in relazione all'eterna bontà di tutte le cose tutto questo è in relazione alla come dire ad una ad una visione del mondo che è una visione altruistica vi racconto un episodio diciamo di vita di vita vissuta un giornalista un amico giornalista era entrato in contatto con una signora che aveva una particolare diciamo forza magnetica diciamo nelle mani e attraverso l'imposizione diciamo delle mani sicuramente riusciva a creare molto beneficio diciamo nelle persone che venivano irradiate diciamo dal suo magnetismo era anche seguita dall'università di Padova il mio amico giornalista ha scritto un bell'articolo appunto citando anche questi studi che erano fatti su questa signora che aveva le mani che praticamente erano fortemente radio opache sostanzialmente e questa signora andammo a trovare ci raccontò diciamo la sua storia perché lei aveva questo dono e aveva cominciato ovviamente ad utilizzare questo dono anche per cercare di di portare a casa qualche cosa e quindi in qualche modo seppur blandamente ma comunque vendeva diciamo i suoi servizi poi andò e incontrò era una devota di Padre Pio andò a Petralcina e quando incontrò Padre Pio Padre Pio gli spiegò che era stato il Signore a dare a lei questi doni e che lei avrebbe dovuto farlo a beneficio di tutti gli esseri direbbe un buddista cioè senza esercitare una professione cosa che lei ovviamente fece per tutta la sua vita e deve una vita felicissima sia lei che la sua famiglia e probabilmente mi darebbe da dire che tutto questo è stato proprio perché in qualche modo lei faceva queste cose di cui sicuramente aveva diciamo un dono proprio era un dono naturale e lo faceva con generosità e quindi come dire un punto di riferimento di benessere per tutta la sua comunità e questo è stata una cosa assolutamente estremamente importante questo faceva parte dell'aver cura del bambino diciamo che è in noi qualche volta quando andiamo in chiesa o quando andavamo in chiesa c'era sempre la statua di Sant'Antonio con il bambino e naturalmente non so quanti ne colgano o ne abbiano colto il valore simbolico ma io direi che questo questo tema è un tema importante che dovrebbe essere come dire portato nel 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 nostro cuore c'è un un metodo su cui torno sempre abbiamo parlato anche stasera abbiamo parlato di di osservazione abbiamo parlato anche di servizio però noi dobbiamo parlare anche di studio e di ascolto di studio che cosa voglio dire con questo voglio dire che l'essere umano in cammino non può come dire non impegnarsi lo studio è in un certo senso anche sacrificio e naturalmente però è un qualche cosa che ci può aprire diciamo ad una superiore comprensione i testi i grandi testi anche dell'esoterismo della teosofia eccetera vanno studiati vanno studiati attentamente e questo questo studio e questa attenzione che noi diamo a questi testi dalle tavole esmeraldine diciamo fino fino ad oggi è un'attenzione molto importante ma è un'attenzione che non deve portarci ad avere una conoscenza mnemonica di questi testi di queste conoscenze perché poi abbiamo la possibilità di fare tante belle citazioni e quindi di suscitare l'interesse di chi ci sta davanti il tema è completamente diverso è il fatto di acquisire delle conoscenze di confrontarsi diciamo con delle visioni del mondo attraverso le quali noi abbiamo la possibilità attraverso la nostra esperienza individuale di valutare la portata la forza il respiro l'espressione di questa di questa realtà cosa voglio dire voglio dire che lo studio e la conoscenza non portano ad un aspetto di sciorinatura mnemonica diciamo delle grandi verità universali ma le grandi verità universali sono da studiare perché noi abbiamo poi la possibilità di confrontare questi grandi principi queste grandi conoscenze con la nostra vita individuale e per fare questo occorre che ci sia non soltanto un'attenzione rivolta verso l'esterno ma anche un'attenzione rivolta verso l'interno e questo è veramente di fondamentale importanza questa attenzione va di pari passo con la dimensione dell'ascolto l'ascolto è a 360 gradi l'ascolto riguarda gli esseri umani ma l'ascolto riguarda la natura l'ascolto riguarda la vita stessa e così come è molto importante che l'osservazione dell'essere umano sia un'osservazione neutrale è altrettanto importante che anche l'ascolto sia un ascolto neutrale quindi il tema non è quello di reagire meccanicamente agli stimoli che ci arrivano ma è quello di essere capaci di essere neutrali in un ascolto profondo perché se noi ascoltiamo profondamente diciamo l'altro non lo giudicheremo capiremo molto più a fondo voglio dire le cose e potremo sicuramente anche aprirci ad una dimensione del servizio la meditazione ha un suo peso diciamo in tutto questo va di pari passo se vogliamo con tutto quello che abbiamo detto e naturalmente anche con quello che abbiamo detto rispetto allo studio senza confondere la meditazione diciamo con le tecniche della meditazione verso le quali naturalmente dobbiamo avere grande rispetto le tecniche ci possono aiutare ma la meditazione diciamo non è una tecnica e naturalmente la meditazione è quando si innesca un processo che ci permette di superare il dualismo tra l'osservatore e la cosa osservata se si innesca questo processo che non è così semplice o così facile ad innescarsi se si innesca questo processo abbiamo uno stato di meditazione altrimenti abbiamo uno stato di concentrazione abbiamo uno stato di esaltazione abbiamo degli stati che però non sono una vera propria meditazione il fatto di non identificare la meditazione con la tecnica che può aiutare ad arrivare alla meditazione ma che non è la meditazione apre all'essere umano una grande possibilità cioè che la vita la palestra della vita diventa diciamo tutta una possibilità di meditazione quindi così come esiste una meditazione fatta in una determinata posizione con un determinato ritmo di respiro con una concentrazione interiore ad occhi chiusi e così via esiste anche una meditazione che può identificarsi esattamente con quello che noi stiamo facendo quindi la dimensione della meditazione è una dimensione che può spaziare che può cogliere veramente tutta la nostra vita e questo è un qualche cosa di estremamente importante perché noi effettivamente possiamo far diventare sacro tutto quello che facciamo e quindi in qualche modo vivere la dimensione del sacrificio non come nel luogo comune che noi attribuiamo diciamo a questo termine ma nel suo significato letterale che è proprio quello di rendere sacro vorrei tornare sul concetto di karma e lo voglio fare questo ritorno al concetto di karma attraverso la lettura di un piccolo frammento di un libro molto interessante di Edwin Harrell che si chiama questo testo la luce dell'asia chiaramente è un testo del secolo scorso e quindi ne cogliamo diciamo lo scritto per quello per quello che è anche nei termini ma tengo a condividere con voi perché è una visione molto molto alta e molto molto lata anche del karma scrive Edwin Arnold il karma è la totalità di un'anima e tutte le cose che ha fatto tutti i pensieri che ha avuto il sé che ha tessuto con trama di tempo invisibile intrecciato sull'invisibile ordito delle azioni prima dell'inizio e senza una fine eterno come lo spazio e certo come la certezza c'è un potere divino che tende al bene solo le sue leggi perdurano nessuno lo spreggerà chi lo contrasta perde e chi lo serve vince paga il bene nascosto con pace e felicità con sofferenze il nascosto male ovunque vede tutto segna fa il bene ti ricompensa fa del male ti sarà reso sebbene il dharma indugi non conosce l'ira né il perdono l'assoluta verità i nostri metri misurano pesa esatta la sua bilancia nulla sono le ere giudicherà domani o molti giorni dopo c'è una certa discontinuità diciamo tale è la legge che tende alla giustizia che nessuno può eludere o frenare amore è il suo cuore il suo fine è pace è dolce compimento queste sono le parole di Edwin Arnold dal punto di vista della descrizione del karma naturalmente il significato profondo di queste parole come dire fanno sì che il karma non sia qualche cosa diciamo di semplicemente meccanico che noi percepiamo diciamo come un doubt d'essere qualche cosa di molto più complesso perché mette insieme tantissimi aspetti naturalmente individuali che si intrecciano poi con degli aspetti che sono altro da noi e quindi tale è la complessità della vita che induce che induce gli esoteristi a ritenere che non si debbano mai giudicare diciamo le cose attraverso il pensiero duale ma che comunque come dire quello che è importante che gli esseri umani possano vedere questo concetto che abbiamo visto espresso prima nel libretto curato da Jante Hoskins che ha una stretta relazione diciamo con il concetto di unità della vita penso che le conoscenze di tipo spirituale le conoscenze di tipo esoterico debbano essere in grado di portare l'essere umano a vivere diversamente diciamo il proprio quotidiano perché se così non fosse resterebbe una conoscenza di tipo intellettuale o di tipo mnemonico e naturalmente non ci porterebbe sicuramente da nessuna parte credo che l'essere umano abbia il dovere di cercare di vivere una vita che possa portare diciamo all'armonia alla felicità di se stessi e naturalmente anche quella degli altri questo non vuol dire essere dei sempliciotti significa cambiare ottava nel vedere diciamo la realtà e nel vedere la vita tenendo conto naturalmente la dimensione del dolore e la dimensione della sofferenza perché questa dimensione del dolore e della sofferenza è tipica della condizione umana ed essendo tipica della condizione umana noi dobbiamo avere un grande rispetto nei nostri confronti e anche un grande rispetto nei confronti degli altri non dobbiamo essere troppo severi nei confronti degli altri non dobbiamo essere troppo severi anche nei nostri individuali riguardi proprio perché la condizione dell'essere umano ha una sua precarietà ed è in questa che noi stiamo vivendo e che è una dimensione in cui ovviamente c'è la presenza del dolore c'è la presenza della sofferenza ma una comprensione della realtà uno studio della realtà e soprattutto il fatto di una pratica di tipo spirituale che cambi la nostra vita individuale fa sì che noi acquisiamo quella possibilità quella capacità di fluire diciamo nel fiume della vita di accettare la vita per quello che è e di avvicinarci a questa dimensione di questa serenità che è sicuramente serenità filosofica ma che è anche serenità esistenziale un grande autore un grande romanziere che era Albert Camus il premio Nobel per per la letteratura del 1960 che certamente non era teosofo ed era dichiaratamente ateo in un suo splendido romanzo La Peste ci mostra come un essere umano non ispirato da principi religiosi non ispirato da ambizioni politiche non ispirato da calcolo economico non ispirato da sovvertimento sociale o da sovvertimento esistenziale nei confronti degli altri abbia avuto la capacità di comportarsi in una città in cui c'era la peste in un modo impeccabile senza calcolo e questo perché perché in lui era sbocciato un fiore di consapevolezza che era quello di riconoscere il valore della solidarietà pensate uno scrittore nato nel nord Africa ma francese diciamo di cultura dichiaratamente ateo con questa straordinaria sensibilità di scrivere questo romanzo la peste in cui il protagonista questo medico opera non per calcolo economico non per calcolo religioso non per calcolo politico non per calcolo egoistico ma semplicemente perché si direbbe in oriente quello era il dharma quello era quello che doveva fare perché perché il valore della solidarietà umana è un grande valore ed è in grado di come dire di ispirare la mente il cuore degli uomini dunque vedete io credo che dobbiamo abituarci noi cerchiamo sempre diciamo fuori di noi qualche cosa che corre che corre sempre il pericolo di trasformarsi in un'autorità penso invece che noi dobbiamo con molta resilienza anche se questa è una parola adesso che viene come in qualche modo diventerà sempre più difficile andando avanti diciamo usarla per il significato ovviamente che ha rispetto alle nostre cose pratiche politiche ma io penso invece che questo sistema che noi abbiamo la possibilità di sperimentare nei confronti della vita di guardarla con grande attenzione di guardarla con grande capacità di adattamento con grande capacità di flusso io credo che possa assolutamente portare l'essere umano ad una dimensione di coscienza più calzante a una dimensione di coscienza in grado veramente di portare l'individuo alla serenità e di contribuire veramente a costruire un mondo un mondo diverso e tutto questo non può che passare attraverso una presa di coscienza sul piano dell'essere mi torno su questo su questo concetto perché il tema non può essere un tema di accumulazione questo è un pericolo che l'essere umano ha e questo non riguarda solo l'accumulazione delle ricchezze ma anche l'accumulazione delle conoscenze intendendole però in un modo schematico invece tutto deve essere portato diciamo a una dimensione del vivere che sia un'esperienza esistenziale che ci consenta di vedere il bello il buono e il vero che fluisce in tutte le cose anche in un autore ateo anche nel tabaccaio che magari la mattina senza accorgerci ci dà un messaggio che è il messaggio della vita ma perché noi siamo in grado di cogliere i messaggi che ogni giorno la vita ci dà attraverso il fluire del nostro quotidiano in qualche modo dobbiamo essere attenti se noi non siamo diciamo concentrati se noi non siamo attenti naturalmente molte cose ci sfuggiranno e quindi sia la dimensione del fluire sia la dimensione dell'attenzione sono estremamente importante e questa dimensione dell'attenzione è quella dimensione non l'ho citato ancora questa sera e quindi lo faccio in conclusione lo faccio in chiusura era proprio quella di cui parlava Giddu Krishnamurti Krishnamurti riteneva che questo potere di osservazione delle cose fosse fondamentale per l'essere umano diceva quando tu sei arrabbiato quando tu reagisci in modo iroso e irato la cosa che devi fare è guardare quell'ira non respingerla non cercare di essere da un'altra parte perché solo guardando con grande attenzione quello che sei quello che fai in tutte le sue sfumature tu avrai la possibilità di capire che quel fascio delle tue identificazioni quel fascio delle tue esperienze quel fascio delle tue pseudo conoscenze che ti fanno incasellare la vita in questo e quest'altro modo sono in realtà degli orpelli che non ti permettono di comprenderla di amarla e in ultima analisi di viverla quindi quando parlavo prima di resilienza questa deve essere anche una qualità dell'essere umano la nostra capacità come dire di fluire la nostra capacità sicuramente di adattarsi alle circostanze e la nostra capacità di capire e di cogliere quali sono le cose importanti e quali invece sono le cose meno importanti vorrei chiudere ricordando ancora questo meraviglioso paese che è la Birmania e segnalandovi il libro scritto da un teosofo e antropologo il professor Bernardino del Boca che ha scritto questo meraviglioso libro tanti tanti anni fa Birmania un paese un paese da amare del Boca conosceva bene molto bene la Birmania e ci è andato in numerosi viaggi ha scritto dei libri era un profondo conoscitore della cultura birmana e una cultura che mette insieme animismo e buddismo una cultura che si basa su un concetto molto importante anticamente ed è il concetto di anade questo concetto della cultura birmana è quello di agire per la contentezza diciamo per la gioia degli altri e quindi c'è naturalmente un'anade che si fa in famiglia un'anade che si fa al lavoro un'anade che si fa socialmente pensare che questo popolo così semplice così profondo così amorevole sia come dire stia vivendo la tragedia la grandissima tragedia che la Birmania sta vivendo in questo periodo di tempo con una repressione terribile penso che mi induca a così a formulare un pensiero di gioia di pace e di serenità per questo popolo straordinario ma anche per tutti gli altri popoli del pianeta l'amore può essere una chiave importante non solo per capire e comprendere le cose ma anche per cercare di far sì che la straordinaria opportunità che ci ha dato la vita possa essere colta fino in fondo io non credo che il karma diciamo ci giudicherà chissà quanto negativamente per le tante cavolate che avremmo fatto nella vita ma forse voglio dire come dicono gli esoteristi si può peccare contro il padre e contro il figlio sicuramente si verrà facilmente perdonati più o meno facilmente perdonati ma non si può peccare contro lo spirito santo e credo che in questo momento in quest'epoca il peccato contro lo spirito santo sia soprattutto il peccato dell'indifferenza le cose ci interessano soltanto le bombe ci interessano soltanto quando cadono vicine a noi però purtroppo voglio dire nel mondo ci sono tantissime situazioni finché non avremo acquisito questa visione globale che riguarda un'unica umanità tutto il pianeta tutti i regni cioè questo è l'espressione vivente di questo grande concetto filosofico che è il concetto di unità della vita tutto ci deve interessare non soltanto quello che ci sta attorno e quindi la speranza che io formulo per me per tutti voi e per l'umanità intera è che questa dimensione della consapevolezza possa espandersi possa diventare sempre più vibrante e possa portarci veramente ad essere degli esseri più felici degli esseri più sereni e in qualche modo anche degli esseri più sorridenti con questo auspicio diciamo e con questo augurio vi faccio anche gli auguri per la prossima festività pasquale siamo partiti dalla considerazione che c'è un'alta simbologia che possiamo ovviamente scoprire attraverso il nostro il nostro studio e sicuramente in qualche modo l'augurio è che ciascuno di noi possa fare la sua Pasqua in modo molto positivo e in modo diciamo molto spirituale buona serata a tutti che ciascuno di noi